buonasera a tutti in questo nuovo video innanzitutto vorrei fare gli auguri di pronta corigione al nostro mister corini perché ha preso il covid speriamo che corisci quanto prima e che ritorni comunque a dare la tua carica perché tu sei un allenatore che sta sempre vicino alla squadra un grandissimo allenatore quindi ti aspettiamo e speriamo che ritorni quanto prima vorrei adesso parlare della partita allora secondo me io oggi ho visto solamente una squadra in campo perché l'altra squadra praticamente dormiva praticamente il lecce secondo me ha dominato la partita praticamente non c'è stata buona serenità sembrava una grande squadra contro una piccola squadra abbiamo giocato con la capolista tra virgolette con la capolista non mi sembra tutto perché sembrava capolista e l'abbiamo spaccato il culo l'abbiamo fatto un culo grosso così io non ho visto sinceramente ho visto una sanità molto 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 scarsa rispetto a lecce anche se è passata in vantaggio diciamo per l'unico errore difensivo della diciamo della serata che ha fatto il lecce che praticamente ha lasciato solo capezzi che poi lo chiamo capezzoli praticamente ha lasciato solo che ha fatto anche un gran gollo stop di sinistro e tiro di destro e ha spezzato il portiere a parte quello praticamente la sanità non ha fatto un cazzo il portiere praticamente inoperoso cioè non gli dovevo manco pagare la giornata questa diciamo stipendio la giornata non gli dovevo pagare perché non ha parato proprio non ha fatto un cazzo noi comunque queste partite come sono brutte quando magari una scuola si difende con 11 uomini praticamente poi difficile segnare per fortuna al secondo tempo abbiamo sbloccato con mancoso sul rigore comunque nettissimo del nonnetto lopez che li ha fatto praticamente mancoso l'ha scimmiato e lopez ha fatto il tempo perché si è sentito futtere non ha fatto fallo capito ha beccato tutto in terra e quindi per fortuna comunque si è riuscita a pareggiare sul rigore abbiamo avuto anche diverse occasioni sia al primo tempo che anche al secondo tempo al primo tempo con con coda abbiamo avuto qualche occasione certo non abbiamo avuto l'occasione nettissima tranne quella con mancoso al secondo tempo di testa che stavo solo a un metro dal portiere però sbagliato vabbè comunque ci può stare però l'avuto abbiamo avuto grandissima occasione ma abbiamo avuto un sacco un sacco di possesso palla abbiamo palleggiato bene abbiamo fatto girare bene la palla tutti i reparti erano abbastanza stretti vicini abbiamo giocato benissimo tocchi anche 12 la sanità si è chiusa bene il lecce non è riuscito a trovare in bocata giusta per anche diciamo degli errori nostri in fase diciamo dell'ultimo passaggio ma questa è una cosa che succede anche nelle ultime partite comunque che praticamente sbagliamo sempre l'ultimo passaggio e quindi è questo che ci manca ci manca sempre dagli 11 metri non siamo molto incisivi secondo me ci manca qualcosa texitis comunque ha fatto bene un po in fase di interdizione diciamo in fase di proposizione un po con qualche qualche pallone c'è non ha sbagliato la difesa ha giocato bene vabbè domani ci vediamo per le pagine mi raccomando seguitemi parlerò diciamo ogni giocatore parlerò di quello che di come ha giocato quindi ora do solamente diciamo un'idea di quello che che ho visto diciamo difesa comunque ha giocato bene centrocampo pure l'istos che ha fatto una grandissima partita enderson così e così comunque l'attacco pettinare mi dispio speravo che segnava almeno si poteva sbloccare infatti stavo stavo spopo sperando che poteva segnare però purtroppo non ha segnato è uscito e stefinski è entrato e ha giocato anche abbastanza bene coda ha avuto qualche occasione peccato che al primo tempo con un assist di enderson probabilmente per un centino non è riuscito a toccare praticamente è entrato e coda in porta ma è entrata la palla doveva entrare praticamente la palla insieme a coda peccato è arrivato poco poco in ritardo comunque l'importante è che siamo lì siamo quinti classifica siamo comunque adesso a quattro punti dal primo perché è diventato l'empoli comunque stiamo lì stiamo importante rimanere siamo a otto risultati di consecutiva abbiamo giocato contro le grandissime squadre le ultime tre e l'abbiamo pareggiate comunque venezia frosinone e salinitana squadra anche abbastanza forti quindi manteniamo l'imbattibilità adesso abbiamo una squadra diciamo il pisa in casa che è una squadra abbastanza abbordabile e speriamo di vincere almeno perché dopo tre pareggi basta no nega ripichiamo la malattia pareggita tocca ben cibo puro perché comunque abbiamo dimostrato anche oggi che possiamo vincere anche con non c'è anzi non vincere praticamente non c'entriamo proprio nulla con la salinità perché la salinità è scarsa e quindi noi potremmo vincere tranquillamente comunque sono diciamo semi contento del pareggio l'importante è continuare diciamo su questa strada perché comunque perdevamo quindi abbiamo pareggiato quindi è stato diciamo non perdere sempre una cosa positiva quindi continuiamo con questa strada ci vediamo al prossimo mi raccomando iscrivetevi al canale mi raccomando mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo domani per le pagelle mi raccomando seguitemi forza lecce ovviamente bari merda e bari suca sempre suca sanitaria merda perché mi sa che sono anche alleati con i baresi non vorrei sbagliare ma mi sa di sì e forza lecce e piglio ancora tutti buonanotte ci vediamo al prossimo video via